Bentornati, bentornati sul canale, bentornati sul canale. Dunque c'è fibrillazione, c'è fibrillazione dopo le notizie che appunto vi dicevo anche di oggi, del ritorno su questo argomento, ossia il rinnovo di Mila Sclina. C'è fibrillazione nel popolo di Nerazzurro perché? Perché mancanza chiaramente di notizie, di campo, di partite, si parla tantissimo di mercato come vi ho anticipato. Ma le dinamiche ragazzi sono queste. Non sto scoprendo nulla, non sto rivelando nessun segreto giornalistico in qualunque tipo di redazione. Nel momento in cui viene a mancare l'oggetto principale, proprio la mission, ossia la partita, è chiaro che gli spazi devono essere comunque riempiti in qualche modo. L'Inter non si sta nemmeno allenando. Quindi al di là di qualche elemento che gioca il mondiale in questo mese e qualche giorno ci sarà un'escalation nelle notizie di calcio mercato. Perché fondamentalmente il giornalismo applicato al calcio si basa su due tronconi. Togliamo il gossip, che voglio dire, non lo voglio nemmeno considerare. Restano il campo, quindi notizie di analisi calcistica e le notizie di calcio mercato. Il problema vero del calcio mercato qual è? E qui voglio essere chiaro. Che spesso non viene trattato come notizia giornalistica, ma viene trattato come gossip. E quindi diventa sensazionalismo e non comunicazione. Quando io dico io non sono un esperto di calcio mercato, non sono uno che segue troppo da vicino le dinamiche, quindi da me non avrete spesso degli scoop di mercato, delle notizie di analisi di mercato. Perché non è quello il mio target. Il mio target è altro. Io rispetto tantissimo quelli che si occupano di mercato, ma rispetto quelli che si occupano di mercato in maniera coerente, in maniera giornalistica. Perché il mercato applicato al calcio è bellissimo. Quindi parlare di un giocatore nuovo magari, andarlo a scoprire, capire come si possa andare a integrare, a completare, ad associare con una nuova squadra, se può servire quel tipo di giocatore o quell'altro, avere delle notizie. Però per il resto è aria. Spesso è aria. Non a caso non è così inusuale assistere a degli scivoloni di chi fa calcio mercato, perché spesso magari si parla di giocatori che nemmeno si conoscono. Ma è fisiologico, nel mare magnum dei nomi da dare a tutti i costi subito, in fretta, si commettono degli errori. Perché? Perché è molto più facile anche per qualsiasi persona. Voi pensate quando scrivete alla tastiera. È molto più facile scrivere dei refusi quando andate velocemente, piuttosto che quando andate invece con calma. L'analisi del calcio, oltre a competenza, ti consente anche di analizzare, di capire, di studiare. Il calcio mercato è un po' una corsa a chi arriva prima e ci può stare, lo capisco, soprattutto nel momento dei... nell'epoca social, no? Però secondo me va sempre fatta salva la notizia, quindi è inutile stare lì a ribadire ogni volta qualcosa, magari spacciandola per novità, quando poi novità non è. Questa di Screener, per esempio, uscita oggi e rimbalzata un po' ovunque, è stata spesso ingigantita. Nessuno... e qui sfido chiunque di voi a andare a trovare un frame in cui io dica Screener rinnoverà al 100% e al 100% resterà all'Inter. Non si può sapere. È inutile dare delle verità che nessuno può avere, ma perché, penso io, deducendolo, non lo sa neanche Screener stesso. Ha oggi quello che farà magari il prossimo anno. Poi si può commentare la notizia, quindi andiamo a commentare Screener perché sta prendendo tempo, perché forse non sta prendendo tempo, ma sono dinamiche normalissime, perché non è detto che si debbano per forza incontrare oggi. Eh, ma Marotta aveva detto, sì, ma Marotta aveva anche detto Perisic vicino al rinnovo e poi Perisic se n'è andato al Tottenham, ma aveva anche detto non prenderò mai Guain, il giorno dopo aveva preso Guain. Quindi le parole di Marotta ormai le conosciamo, non è un dirigente di ieri, è un dirigente da 40 anni Marotta, no, quindi è scafato, ma dovremmo anche sapere interpretare le sue parole. Se Screener firmerà il rinnovo, resterà l'Inter almeno fino a giugno, punto. Altrimenti dopo giugno magari andrà via. La mia impressione, che è quella, che è la stessa di quelle dell'estate scorsa, che era quella della stessa primavera scorsa, quando tutti dicevano Screener va via, è che Screener resterà l'Inter almeno fino a giugno. Rinnovo sì, rinnovo no. È chiaro, poi lì sta all'Inter magari esercitare un rinnovo, farlo prima, per poi avere maggior forza contrattuale con un eventuale acquirente. Ma ci sta nella logica anche dei fatti che Screener tenga il punto, perché con orgoglio, un po' come ha fatto Peric, non avete rinnovo, mi avete messo sul mercato, allora io vado a zero, finisco la stagione all'Inter e poi scelgo dove andare. Non ci vedo questa tragedia. Poi, ripeto, lo chiedete a me, io spero che Screener firmi, prolunghi e resti anche dopo. Però devo dirvi che c'è una notizia oggi, non c'è una notizia. Mi permetto di dire, mi prendo la responsabilità di dire che oggi non c'è alcuna novità su Screener. Non neanche servono i contatti col PSG, perché l'offerta del PSG lì è valida. Quindi non c'è neanche da parlare. Se il Screener vuole andare al PSG, alza la cornetta la gente e dice, sì, veniamo da voi, gli danno 9-10 milioni quanti era. Cioè non c'è questo clamore. Questo clamore viene innescato al momento in cui non c'è nulla di cui parlare. Fondamentalmente. Non essendoci nulla, qualcosa deve uscire. Se voi ci fate caso, comunque, anche un giorno in cui non c'è nulla, in un giornale c'è una pagina barra 2 dedicata all'Inter. E qualcosa lì bisogna scrivere. Che altrimenti il tifoso dell'Inter non lo compra quel giornale. Come altrimenti il tifoso dell'Inter non legge quel sito. come altrimenti il tifoso dell'Inter non vede quel TG sportivo. Ma è logica. Siamo nel 2022, non siamo nel 1987. Mi stupisco di chi si stupisce. Poi, quindi, possiamo fare delle congetture, oltre, chiaramente, a quello che ci torna indietro. Io, da quello che so io, non ci sono state novità. Né in un verso né nell'altro. C'è grande serenità. C'è grande serenità. Perché la situazione è molto chiara. Le carte sono sul tavolo. l'Inter può arrivare a 6, 6 e mezzo massimo. Quello è il tetto, no? Lo sappiamo di Lautaro Brozovic. Skinner sa che l'Inter, oltre quel tetto, non può andare. Se vorrà rinnovare, rinnoverà. Se vorrà rinnovare e può andare via giugno, si metterà d'accordo eventualmente con l'Inter e l'acquirente del caso. Se vorrà restare, resterà. Ma le condizioni sono talmente lampanti che io non ci vedo alcun caso e non ci vedo nessun mistero dietro. Poi ci può essere, sì, un tiramolla, ci può essere, ma che risulti a me, non c'è stato nulla di tutto questo negli ultimi giorni. Forse Marotta, parlando, era stato eccessivamente ottimista. O voleva mandare magari un messaggio bleffando, un messaggio di serenità all'ambiente Inter che aveva bisogno, del quale ne aveva bisogno in quel periodo e comunque gli effetti in campo poi sono suonisti. Perché voi dovete sapere che il principale obiettivo di chi comunica da tesserato di un club non è comunicare la verità. Quello semmai sta a noi cronisti. Quello dei tesserati è agire, parlare in funzione del proprio tornaconto, ossia del proprio risultato che poi si riverbera sul campo. Quindi si fa di tutto per parlare affinché ci sia un risultato sportivo in campo. Se questo vuol dire bugio, dire mezze verità, lo fanno. Ma lo fanno i dirigenti, lo fanno i presidenti, lo fanno gli allenatori e lo fanno i calciatori. Quindi nulla di nuovo. E spero che sia stato chiaro. Quindi Skriniar via non rinnova, Skriniar al PSG, Skriniar si allontana, anzi a Inter. Non c'è, non c'è, non c'è granché, non c'è granché. La messa è finita. Se la messa vi è piaciuta mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Un saluto.